Il turno infrasettimanale di campionato nel girone B di promozione con la battistrada Casalbordino che intende allungare il filotto di successi per cercare di prendere largo sulla folta e agguerrita concorrenza. Il turno casalingo con la matricola San Giovanni Teatino è sulla carta abbordabile a giudicare dei freddi dati statistici e dal netto di vario in classifica tra le due contendenti odierne, anche se lo sport più amato dagli italiani non è quasi mai una scienza matematica e l'imponderabile è sempre dietro l'angolo. La truppa del padron Santoro, ben consapevole di guardarsi dalle insidie spesso impreviste, non snobba l'avversario che paga ancora lo scotto del noviziato ed è alla ricerca del primo successo stagionale per allontanarsi dai pericolosi meandri dei bassi fondi. Ma la via lascia ben sperare ai ragazzi di Mister Segalotti che vanno al primo a fondo della contesa con il sinistro di Vaccaro a ridosso del vertice d'area che si spegne di poco a lato. La replica giallorossa rischia di essere prorompente visto che sullo spevente da fermo di Iaboni l'intervento di nuca di Palumbo si impenna sulla trasversale con Fieroni che sulla ribattuta non riesce ad infierire. Dal possibile vantaggio casalese si passa invece a quello inaspettato della truppa ospite che rompe l'induge al minuto 24 per merito di Landucci, abita ad intervenire da distanza ravvicinata sfruttando l'ottimo lavoro propedeutico di Vaccaro a ridosso della linea di fondo. La capolista non tarda a scuotersi e un minuto dopo va ad acciuffare il fulmineo pareggio con l'esperto Iaboni che scaraventa in rete dalla media distanza dopo aver chiuso la combinazione in corsa col suo collega di reparto Coffi. I giallorossi sono padroni del campo e poco oltre la mezz'ora sfiorano il sorpasso con lo stesso Iaboni ancora servito da Coffi che stavolta spara sul portiere il quale limita i danni. Cauti deve comunque soccombere al 35esimo per opera di Fieroni che va a bersaglio con un perfido colpo da posizione defilata che spedisce la sfera in buca d'angolo. Prima del riposo Iaboni chiude virtualmente la pratica con il tris della tranquillità che arriva con un piatto ravvicinato al culmine di un buon fraseggio colletto. La gara si riapre improvvisamente nel secondo atto quando la terna arbitrale convalida la rete di Menichino che secondo la direttrice di gara ha sentito il parere del suo assistente di linea avrebbe superato la fatidica linea di porta. I locali non sono dello stesso avviso ma la decisione di Elena Bomba della sezione di Lanciano va in tutt'altra direzione e San Giovanni teatino si rianima improvvisamente con il risultato tornato in discussione. Ma così come è accaduto in occasione del momentaneo vantaggio biancoverde l'euforia dura lo spazio di un battito d'ali visto che pochi istanti dopo Coffi perfeziona la quaterna casalese entrando nel tabellino marcatori con un puntuale stacco ravvicinato sugli sviluppi di un tiro d'angolo di Iaboni. Oltre al nuovo passivo il San Giovanni teatino è costretto a fronteggiare anche l'uscita imprevista di Vaccaro costretto a dare forfe dopo un fortuito scontro di gioco colletto. I compagni di squadra fanno il possibile per non arrendersi ma l'unico acuto significativo della parte conclusiva della contesa per la squadra di Segalotti è rappresentato dalla stoccata aerea di Landucci che giustifica la presenza tra i pali di Savut. Da questo istante la prima della classe prende perentoriamente possesso del pallino del gioco e va ripetutamente all'assalto della porta di Cauti messa in discussione dal temibile diagonale del neoentrato del grande che sfila di un niente oltre il secondo palo. Al trentacinquesimo Cauti è decisivo per disinnescare il siluro da fermo di Fusaro, poco dopo si ripete sul tiro a botta sicura di Piccolo che vanifica l'ottimo suggerimento di Fironi. Quest'ultimo si rende protagonista di una gran giocata di prima intenzione raccogliendo l'invitante pennellata di Fusaro ma la sfera va ad infrangersi sul palo alla sinistra di Cauti. Prima del triplice fischio il bomber casalese va a caccia del suo bis di giornata ma la mira in questo caso non è all'altezza delle aspettative e il classico pelone l'uovo di una giornata l'ennesima da incorniciare per il casalbordino che fa il vuoto alle sue spalle e si prepara la prossima sfida in trasferta nella stracittadina con i cugini del San Salvo. Gara che non fa testo per il San Giovanni Tiatino, non è questo il genere di gara da vincere e dunque ogni giudizio va rimandato ad altre sfide con squadre più abbordabili. Patron Santoro, questo casalbordino quest'anno sta regalando gioie ma non solo per il risultato ma anche per il bel gioco. Eh sì dai le cose stanno andando bene però l'imprevisto è sempre dietro l'angolo quindi dobbiamo volare bassi, dobbiamo tenere i piedi per terra e dobbiamo continuare su questa strada. Sappiamo che ci aspettano tutta una serie di finali, noi siamo pronti, l'organico è di primo ordine e ovviamente ce la dobbiamo andare a giocare quindi con molta tranquillità e onestà intellettuale, rispetto per tutti, paura per nessuno, noi andiamo a fare la nostra partita dappertutto. Come fa Sky che vota l'uomo Sky? Votiamo l'uomo della partita secondo Santoro? Ma guarda è difficile perché oggi veramente ce ne sono più di uno di uomo partita. Allora il Puma Iaboni sicuramente soprattutto ne prendo uno per reparto, poi Danilo Fusaro diciamo il secondo e poi Gagliano Francesco che veramente è poco conosciuto qui in Abruzzo ma è veramente l'arma in più di questa squadra. Domenica c'è il derby. Sì, c'è il derby però insomma sono tutti derby perché anche quello di oggi paradossalmente è un derby. Andiamo a San Salvo, mi spiace che i cugini di San Salvo abbiano perso oggi, ho visto anche il punteggio un pochino inclemente, sono una grande squadra negli undici. Nel complesso molto probabilmente loro domenica tenteranno di fare la partita della vita, noi però abbiamo un solo risultato dalla nostra quindi sarà una bella partita sicuramente. Sconfitta qui a Casa al Bordino, preparatore dei portieri Morico del San Giovanni Teatino. Cosa bisogna cambiare in questa squadra? Sicuramente forse un po' anche l'atteggiamento perché anche quando vanno in vantaggio poi riprendono subito gol. Sì, sicuramente una delle problematiche è comunque sia la presenza di tanti under che devono ancora fare strada, devono ancora maturare. Quindi anche loro devono crescere insieme a tutta la squadra e l'atteggiamento della squadra nonostante spesso è capitato di essere in vantaggio ci hanno subito recuperato come è anche successo oggi. Quindi sicuramente si deve lavorare sull'aspetto mentale oltre che sul discorso tecnico e tattico che sarà una costante da oggi fino a fine campionato. Tanto lavoro ci aspetta, quello sicuramente, certamente. La PD Casa al Bordino comunque è una signora squadra, magari non vi aspettavate di fare il risultato proprio qui, almeno sulla carta. Forse quello che è mancato nelle altre partite è che giocavate anche la vostra partita e poi per piccole disattenzioni veniva meno il risultato. Sì, certamente. Siamo stati anche abbastanza sfortunati nel calendario perché abbiamo incontrato, diciamo, cinque squadre almeno che puntano almeno a fare i play-off. E per una neopromossa è una partenza, diciamo, in salita. Più di una volta siamo andati in vantaggio perché mi sembra che in tre partite eravamo avanti a fine primo tempo. L'inesperienza ci ha portato a perdere punti anche in partite in cui magari meritavamo qualcosa in più. Natalino Ranalli, ennesima vittoria, tanti gol segnati dal Casa al Bordino. Forse qualcuno preso anche da evitare, però rollino di marcia sicuramente impressionante. Già adesso state avanti di cinque punti rispetto alle avversarie, quindi tanti complimenti a questa squadra. Sì, sì, sicuramente hai detto bene. Un bel rollino di marcia, invidiabile. Però, diciamo, io sono sempre, mettiamolo, pessimista cosmico, ma poi lo confermo pure qui in televisione perché sono più che altro realista. Cioè, signori miei, abbiamo fatto tanti gol, ne abbiamo subiti pochi, anche se purtroppo oggi ne abbiamo subito i due. Avevamo riaperto la partita con una squadra, voglio dire, che non è che era, voglio dire, una fila del mondo, insomma. Ma, quindi, però, vedo troppo rilassatezza in certi scorsi della partita. Cioè, al secondo tempo, non lo so, riprendiamo i golli facili e io non voglio che succeda questo. Anche perché, voglio dire, noi siamo fortissimi, come hai detto tu, e quindi non c'è bisogno di riaprire le partite ogni volta. Noi dobbiamo annientare l'avversario perché siamo forti, effettivamente siamo forti quest'anno. Ci abbiamo quattro bocche di fuoco davanti là, quindi siamo irreprensibili. Allora io le partite non le voglio soffrire così come oggi. Le voglio chiudere 4-5-0 e basta così perché effettivamente siamo forti. Domenica arriva il San Salvo, un derby, comunque una partita a sé. Il Casalbordino come lo affronterà? Beh, forse andiamo noi a San Salvo, se non sbaglio. Sì, lo Stingi ci porta bene perché l'anno scorso mi sembra che abbiamo vinto 3-1 lì, se non sbaglio 3-4-1. Sì, bella sfida, bel derby, anche perché l'allenatore è un grande cliente, amico, è Ciavatta Dino che saluto amorevolmente, amichevolmente, quindi, però, diciamo, se posso fargli lo sgambetto domenica lì, non è che mi dispiace perché non vogliamo proprio interrompere a San Salvo questa serie positiva. E anche perché, ripeto, il distacco tra noi e San Salvo, ripeto, non ancora li vedo giocare bene, però voglio dire qualcosa in più ce l'abbiamo. E allora, tanti auguri a Dino, ma per Domenica deve soccompere. Va caro, di questo Casalbordino sicuramente vanno eloggiati gli attaccanti, vanno eloggiati la difesa, il centrocampo, tutta la squadra. Ci sono giocatori che si sono confermati quest'anno e ci sono però anche tanti ragazzini che stanno dando manforte e che si sono comunque comportati bene in ogni partita, buttati nella mischia. Sì, 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 beh, come hai ben detto tu, sai benissimo che noi vogliamo sempre dar spazio ai giovani. Ci sono tanti ragazzi, però permettimi di non fare nomi perché voglio che tutti quanti si devono impegnare, sono agli inizi e devono ancora dimostrare. Quindi stanno facendo bene, ma abbiamo ancora ragazzini che non si sono ancora visti, ma noi conosciamo il talento che hanno e quindi sicuramente durante l'anno ne vedrete delle belle. Abbiamo un gran bello organico, obiettivamente oggi, se hai visto quando fai i cambi, entrano personaggi sia di spessore sia ragazzini che non fanno abbassare il livello, anzi, piuttosto lo alzano. Quindi devo essere sincero e sentivo i commenti anche sopra gli spalti. Un bel Casalbordino che fa anche un gran bel gioco. La squadra gira bene e fa anche divertire, però se proprio dobbiamo trovare qualcosa che non va? No, diciamo che nell'ottica di migliorare c'è sempre qualcosa che non va. Come dice anche tu, probabilmente prendiamo anche forse troppi gol, perché comunque alla fine le statistiche dicono che vince anche la miglior difesa, quindi se proprio dobbiamo dirla tutta dobbiamo lavorare forse su quell'obiettivo lì, però non ho niente da rimproverare. Se qualcuno me l'avesse detto all'inizio dell'anno probabilmente avrei firmato in bianco, non di più. Chiaro che anche fare tanti gol a questa categoria non è facile, anche oggi non è stato semplice. Fa piacere che hai notato la nostra capacità di alternare lungo, corto, alternare il modo di attaccare. E quindi questa è una risorsa. All'inizio dell'anno mi sono reso conto che abbiamo estrema qualità lì davanti, quindi per quello che mi riguarda quest'anno l'importante è fare un gol più degli altri. Sono tutte partite comunque complicate, ma a quest'inizio si può premiare. È un Casalbordino a punteggio pieno che deve affrontare poi domenica un derby e probabilmente lì sarà importante l'approccio mentale. Assolutamente, ma anche le ultime gare affrontare dei testa coda non è facile, perché in termini di motivazione, però anche lì i numeri mi sono dalla nostra. Quando raggiungi obiettivi importanti queste gare non le devi perdere, devi far punti. Gare di cartello secondo me sono facili da preparare perché le motivazioni vengono da sole. I ragazzi le approcciano in maniera diversa, quindi sostanzialmente sono veramente contento. Grazie. Grazie.